Buonasera, il Bari vola in testa alla classifica, vive una condizione atletica eccellente, questo il fatto che un po' tutti sottolineano in questo periodo a 10 giornate dalla fine del campionato. Sì, la preparazione atletica, quella che ha scatenato qualche polemica nel corso della stagione per qualche infortunio di troppo che ha caratterizzato un po' i calciatori biancorossi. Oggi Claudia Carbonara ha sentito il professor Giampiero Ventolone che cura la preparazione atletica del Bari e ha realizzato questa interessante intervista che vi proponiamo. Il Bari è primi in classifica per un complesso di fattori, il rendimento di una squadra è un insieme di componenti che si inseriscono, tra cui la condizione. Qualche mese fa si è alzato qualche polverone circa gli infortuni, infortuni che a questo punto sono stati funzionali per raggiungere questa condizione. Il problema degli infortunati è un problema proprio mondiale, infatti la UEFA inizia a studiare un po' di più e cercare di capire. Certamente noi piccole squadre rispetto alle squadre di top level giochiamo di meno, abbiamo meno nazionali quindi dovremmo avere meno problemi, infatti da un punto di vista noi meglio ne abbiamo molto di meno. Quando si inizia a lavorare ognuno di noi cerca di avere prestazione e di avere prevenzione, però è inevitabile in un passaggio di lavoro avere qualche problema. Noi abbiamo avuto un'altissima prevenzione finora da un punto di vista distorsivo, ginocchio e caviglia e un altro fattore al nostro vantaggio che finora non abbiamo avuto ricadute. Mancano dieci giornate alla fine del campionato, ci sono alcuni atleti che gli dicono basta non ce la facciamo più? No, perché per tutti quanti noi raggiungere un sogno, un obiettivo che ne abbiamo in testa da moltissimo tempo è la cosa più importante, questo sogno ha un'importanza vitale, tutto il resto passa in secondo piano. Antonio Conte non ne vuole parlare, ma secondo lei questo Bari è da Serie A? Se non ne parla lui, non ne parliamo nemmeno noi. Bene, abbiamo ascoltato questa interessante intervista con il professor Ventrone che, ripeto, è stato al centro anche di volte polemiche proprio per i numerosi infortuni muscolari che hanno caratterizzato la vita calcistica del Bari in questa stagione. E allora occupiamoci del...